ma sono preso eeeeh le gira ancora ahahah con massaggio con massaggio fai la tua un grande e poi te finora dai dai ahahah ahahah buona fila eeeeh ho capito lui chiude eh ahah ahah poi ahah dai tu ci side ci vuole us dai come. 500 euro per riprendere le resti ecco il banco, 500 euro proprio tutto quanti milioni c'è? ma quanto chiude? 50 euro ma quanto chiude? ci unire nessuno più pescato bisogna mangiare la prossima anno mi chiede la porta loro ti ha portato la tavola? ha portato la tavola, fai girare in cazzo fai girare in cazzo non fai girare in madera puoi girare in cazzo e i due come hai già in cazzo? amore c'è che scrivo, dai velo, dai velo grazie, dai ci metto bene no, hai fatto 30 no, no, non fai girare pesca 5 euro, dai no, non fai girare oh, ora vieni giù il toro 5 euro, televisore oh, ora vieni giù il toro un euro al quale deve essere ma io... non fai girare in cazzo non fai girare in cazzo allora, ciao ciao ciao